Ciao a tutti, sono Marcus Crone, signore e signori bentornati nella SteenCraft da oggi anche col cappello da pirata che però togliamo perché altrimenti non sento assolutamente niente signori bentornati oh yes, abbiamo una nave volante oh no mi sono telepipottato ok, la nave adesso continuerà la sua discesa verso il cielo, quindi verso il suolo quindi andiamo a fermarla ecco qua vieni qui nave, ok, ok, no, 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 nave, nave, fermati oh yes, questa qui è una delle due navi volanti che ha fatto il vostro Sor Marcus Crone questa è la prima, carina, carina e poi ce n'è un'altra che è un po' indecente ma che magari live sistemiamo eccola qui, signore e signori, questa qui è un po' più veloce ed è ancora un'entità effettivamente oppala, partiamo yes bellissima, meravigliosa mi sa che è più lenta questa ho detto una scemenza, è più lenta allora guys, ho aggiunto delle mod due mod, me le avete suggerito voi la Gainist Surface e la Gainist Nether e un'altra mi serviva perché mi serviva un paio di cose che adesso vi vado a far vedere ma vi faccio vedere una cosina non so perché siamo girati al contrario ma va bene lo stesso noi ci fermiamo qui nella giungla vai, perfetto ah ok, perché stavo flippato ho fatto questo ragazzi, perdonatemi se faccio certe cose off camera ma sinceramente la farm dei alberi mille volte questa qui è la Progressive Automation l'abbiamo usata in tutte, praticamente tutte le fottute serie di Minecraft in cui non c'era Lender Eye o cose del genere mette il chopper ci metti gli alberi Jungle Sapling ci metti gli upgrade ci metti le asce ci metti il combustibile lui pianta le piantine e niente farm qua sopra arriva il legno questa è la nostra farm di alberi della giungla qui c'è uno sprinkler dell'open block e qui c'è un coso che gli dà l'acqua in modo che li fertilizza li faccia andare un pochino più veloce quando cresce un alberone gigante la legna va dentro la chest il braccino la prende braccino e abbiamo il distributor dell'Expanded Industries purtroppo la giungla c'ha un problema con la Dynamic Surround Dynamic non mi ricordo come si chiama quella dei suoni insomma che fa sto rumore fastidioso di grilli e zazzare e vespe vabbè comunque questa qui è l'hopper duct quindi che cos'è questo insert no scusate che cos'è questo distributor dell'Expanded è un hopper che flippa e gira ora visto che questo non accetta le uniche due possibilità sono di metterla dentro qui come fuel oppure di andare qui dentro andare qui dentro andare qui dentro andare qui dentro e poi qui dentro ok questo perché perché per adesso che non abbiamo le conveyor belt ma presto le avremo scusate ma voglio spostare un pochino l'immagine è l'unico modo per non dover fare troppi accrocchi quindi ci sta ci sta ci sta questa qui è una farm di cerciole e qui abbiamo un botto di cerciole ma proprio un botto sono molto molto felice molto 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 felice quindi qualcuno di voi avrà notato questa strada qui questa strada qua guardate qui basta quanto piotto con lo steam con lo steam jet oddio oh che cosa che cosa perché perché sta così va bene va molto bene però io cercherò di utilizzare la maggior parte di mezzi di locomozione più interessanti tipo le navi tipo i i treni signori perché questa è la puntata dei treni questa è la prima puntata dei treni sto imparando tantissimo la railcraft che non mi era mai successo di impararla cioè non mi era mai servito studiarla bene perché c'erano tante altre mod ma qui invece dove c'è lo steampunk puro signori ci serve ci serve ci serve ci serve ma soprattutto perché vogliamo anche un'estetica migliore ragazzi la traincraft che abbiamo visto pochissimo l'abbiamo vista con shift l'abbiamo vista con keledan l'abbiamo vista poco invece la sto approfondendo ed è una figata pazzesca prima di fare tutto quanto vi faccio vedere qui ho fatto un altro boiler visto che non c'avevo assolutamente steam ogni volta per caricare questa è una tortura e qui ho fatto oltre al sistemino che gli mette il chargeo sia a destra che a sinistra sempre con il mio distributor questo qui è un infinity water infinity water se qualcuno vi si chiedesse come mai c'è questo oggetto che sembra molto molto p è perché tutta tutte ste mod vanno a vapore ragazzi e ogni volta fa l'acqua infinita l'archimede mio nonno sarebbe stato davvero troppo terribile quindi c'è questo oggetto della magneti craft che si fa con un machine housing che ti dà acqua infinita come l'acquius accumulator come qualsiasi altra cosa delle mod quindi non vi stupefate non gridate al oh mio dio è OP perché non è così non fate gli esagerati stai facendo gli esagerati lo so una cosa che OP però è necessaria è una mod di stoccaggio degli oggetti ma l'applied rovinerebbe tutto perché c'ha gli exporter gli importer tutte cose e uno dice è poco steampunk ok quindi dove stocco gli oggetti signori non dentro queste ceste non dentro il coso della magneti craft quanto mi piace sto ciccio ciccio perché ci ha rubato non questo ciccio ciccio è l'altro coso della magneti craft ci ha rubato un sacco di oggetti di portarci sua ma andiamo ad utilizzare la edge storage questo perché perché purtroppo c'è una sfidio qui nella 1.7 non c'è la refined storage altrimenti avrei usato volentieri quella senza gli exporter o gli importer mentre l'applied sinceramente secondo me stona tanto 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 quindi ci serve dell'ottimo legno legno che adesso ho in abbondanza perché non so se ve ne siete accorti ma io ho passato una buona oretta a disboscare tutto questo pezzo e tutto questo pezzo con un oggetto che effettivamente non vi ho fatto vedere mi dispiace l'ho fatto in live ma davvero è è quasi ininfluente abbiamo fatto nell'ultima puntata il piccone pneumatico il martello pneumatico che praticamente è piccone e pala ho fatto la motosega ragazzi crafting facilissimo che non ti fa vedere perché sei stronzo electric motosega dove stai? eccola qua una batteria un electric motor e tre pezzi di ferro e devo dire che è spettacolare soprattutto in combo con la mia amata amatissima vanminer perché la tricapitator non la vedeva vedete? a parte che è velocissima ok quindi ho aggiunto il legno alla vanminer e adesso abbiamo una pseudo tricapitator che però visto che abbiamo questa batteria qui che ci dà un sacco di vantaggio un sacco di carica elettrica ragazzi è davvero davvero stra buona quindi abbiamo gli oggetti comunque che vanno a energia sono abbastanza buoni sono abbastanza buoni l'ho detto che è bellissima la shader questa puttana la shader è meravigliosa guardate il tramonto sexy ma comunque non sono stra oppi tipo che ne so le asce che scavano 9x9x9 senza senso perché effettivamente sono delle a come fanno? non lo sappiamo quindi signori add storage abbiamo bisogno bisogno in primis ah visto che abbiamo messo la genis surface genis mio dio la roba che mette la genis surface non userò tutta ovviamente potrei anche andare a distruggere cioè a bloccare dei crafting di qualche cosa se non sbaglio abbiamo la double work table eccola qua interessantissima perché dovrebbe essere come aspettate devo fare delle chest giusto si cos'è sta roba che brutta è cambiata oh my gosh sei brutta non mi piace per niente posso farti ritornare non lo so potrò farlo non potrò farlo va bene la facciamo diventare work table che praticamente è questa quindi questa potremmo pure toglierla effettivamente vedrò se tenere la genis oppure no ma secondo me non ci dovrebbero essere cose strane cose stra oppi non lo so c'è il mercato forse un povero oppi ma va bene eccola qua e invece andiamo a fare così non possiamo farlo non possiamo farlo perché non possiamo farlo lo possiamo fare e questa qui è una double chest moddata che ti tiene gli oggetti e ti fa vedere se non la mettiamo qua sotto la mettiamo magari qui e ti fa vedere quello che stai facendo qui dentro tipo che ne so io faccio così li tiene e te li fa vedere sopra bello 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 se sentite che non ho la voce è perché non ho dormito niente perché come al solito soffro di insonia e Gesù mi ama tantissimo quindi add storage adesso è più facile chissà se prende lo shift chissà se crasha quando faccio così no ok già che non crasha ragazzi è un'ottima notizia ma davvero ma davvero ottimissima quindi io vado a fare cos'è questo aha aha sexy vado a fare uno storage core che lo metto lo metto lo metto qui e noi ci possiamo cliccare ma non ci facciamo assolutamente nulla di nulla ci serve uno storage box con cui ci servono una cifra ma una cifra ma una cifra di queste molto bene bam ne facciamo forse ho sbagliato a farne tre non lo so vediamo un po' oh yes oh yes ogni storage box sono 200 mi sbaglio? ho capito male? ogni storage box sono 200 slot quindi ho fatto bene a farne di più 400 yes 600 buono 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 si possono modificare da config se è troppo più ma secondo me ci sta pure e poi c'è questo qui il condensate che non ho idea di quanto sia ma costa un sacco di ferro e io il ferro l'ho sprecato praticamente tutto per fare la farm di legna sono andato in miniera e ho preso un altro stacchino più o meno eccoce l'ho messo a cuocere ce l'ho due stacche e nove ma come se ne va via il ferro in questo ma spacca se ne va è terribile è terribile ci sono altre cose che possiamo mettere per farla assomigliare un pochino all'uplet abbiamo il vabbè questo qui è quello che si fa con super op che ci dà un sacco di cose abbiamo l'input port che ci permette di inserire automaticamente gli oggetti ma adesso non lo andremo a fare il crafting che però richiede le blade spuder e il search box più interessante per adesso che però vuole 4 fottuti blocchi di iron 4 fottuti blocchi di iron sono tanti sono davvero tanti mortacci di peppino di maggiorca andiamo a prendere a cercare subitissimamente ho visto bello si mettilo mettilo a polverizzare questi sono altri 6 pezzi di iron si ci piacciono ci piacciono tantissimo e oltre a questo che dobbiamo fare per avere i libri inciantati io direi che il metodo più semplice signori più pratico e più intelligente è fare un enchanting table vanilla esatto con il piccone non ho avuto difficoltà a prendere l'ossidiana tra l'altro il piccone è mainizzato quindi fai boom e prende tutto molto molto veloce ve l'ho fatto vedere quanto è veloce non mi ricordo guardate qua non male non male alla fine si fa col diamante quindi ci sta e andiamo a fare l'enchanting table che ragazzi non mi ricordo come si fa perdonatemi andiamo a prendere i diamantini andiamo a prendere il libro e poi basta giusto ok let's go abbiamo un enchanting table c'è l'enchanting plus che è questa qua ma come potete vedere serve la bled spoder dovrei andare nel nether si dovrei andare nel nether davvero sono d'accordo con voi ma così mi lascio il pacchetto e invece preferisco lasciarmi quello che posso per poi andare a fare ancora di più ancora di più ancora di più i lapiscazzoli ma da quando ma non è da una una versione successiva che vuole i lapiscazzoli ma sul serio ma non ti stai sbagliando mio caro forse forse c'è una mod che aggiorna questa cosa non ne ho idea davvero non ne ho idea ok facciamo altri libercoli quattro precisi andiamo a mettere un lapiscazzolo e un libricino voglio proprio il libro schifoso no devo per forza prendere quello da due questo da uno va benissimo ti prego che mi basta i livelli questo da due dovrebbero bastarci e questo da uno signore e signori abbiamo protection 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 proiettile e wrenching wrenching non ho davvero idea di che cosa faccio però va bene lo stesso quindi 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 ritorniamo sull'head storage andiamo a fare così non credo che me li metta le cose infatti perché come fai a riconoscere queste cose queste cosine qui io ovviamente ho sbagliato ma come fai come fai neanche in discussione il fatto abbiamo il search box che possiamo mettere dove ci pare tipo qui e dobbiamo sempre cliccare qua sopra e ci aggiunge come avete visto la gui mobida mobida quindi hopela signori signori abbiamo questo io mi farei anche l'import perché ora che ci penso tutta sta roba a mano non ce la voglio mette come l'han detto signori vuole il quarzo però il quarzo però il quarzo miei cari ragazzi io il quarzo già l'ho visto il quarzo già l'ho visto il quarzo mio dio che glitch già l'ho visto no sono le slab dimmi che le slab possono tornare a essere quarzo si non è questo è questo godo oh ma c'è proprio il blocco di quarzo godo come un bagno ma che è sto coso che si vede ah vado così tanto veloce ah io che dolore che praticamente mi fa male il cioè mi si vede il pacchetto dietro come si chiama lo zainetto che però non si vede perché ho il ciccio cicciopelato va bene signori possiamo farlo mi servono i pistoni ne ho otto qui dentro sono abbastanza sicuro sette sette va bene sette sette ci piace è un buon numero vai bam signori abbiamo anche l'import port allora l'import port io la metterebbi here e poi devo perché questo voglio morire ho fatto una cosa brutta brutta proprio brutta che non si può vedere ma va bene lo stesso faccio un altro operigno sto davvero lo con il ferro con il ferro sto così tanto lo che quasi mi viene da piangere e vediamo un po' se la roba entra entra lenta ma entra se volessi fare una cosa carina 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 sarebbe da andare a prendere non qui perché altrimenti ecco sono pieno andare a fare altre chest facciamo possiamo fare quelle vanilla che sono tanto carine una cosa che hanno fatto bene alla mojang perché devi fa fa la brutta buttiamo dentro la robetta qui tipo così perfetto ci andiamo a mettere tipo il nostro amico qui inserter yes che è un po' che lo più veloce dell'hopper e vediamo se funziona oh yes da funzia signori da funzia quindi sta prendendo questo hopper da qui ma il nostro amico inserter sta buttando qui dentro quindi presto tutte queste chest saranno dentro quei comodi blocchi che non mi ricordo se si possono rompere che succede se li rompo speriamo di non perdere il pacchetto io mi faccio un backup guys sentivo un fischio non capivo che cazzo fosse è questo qui meno male che me ne sono accorto perché altrimenti mi esplodeva tutto mi esplodeva il cazzo di robo mamma mia che paura che fucking paura davvero guys cioè terribile terribile mettiamo anche questo così si scarica un pochino wow che rischio qui esplodeva tutto ce l'ho fatta ce l'ho fatta ho spostato tutto qua dentro voleva 7000 6700 slot ho messo un pavimento doppio di questi così possiamo andarla a richiudere e ho dovuto farne due uno adesso l'ho proprio buttato e cancellato per spostarlo senza romperlo quindi li ho spostati praticamente a mano ragazzi sono molto triste sono molto triste perché ci ho apprezzato 150.000 anni e se questo video esce in ritardo voi sarete molto tristi però non siate molto tristi ok togliamo sto ciccio ciccio che si è bello però mi sta un po' sul culo qui l'ho messo così in questa maniera quando qui si andrà a sfornacciare l'iron direttamente dentro questo meraviglioso e quando avremo il crafting sarà ancora più meraviglioso per adesso ci mette le cose in ordine di grandezza ma comunque le possiamo cercare e ragazzi io andrei subitissimo a vedere la traincraft la traincraft oltre a mettere dei modelli spettacolari per i trenini mette delle rail solo sue perché dovete sapere che la rail scusatemi c'è la railcraft e c'è la traincraft la railcraft è più funzionale la traincraft è più bella è più estetica più like a train ok noi andremo a fare una quando non ci serve bello quando ci serve funzionale che è poi come dovrebbero essere fatte le cose quindi non in italia prendete ci ispiriamo a un modello estero quello che ci serve inizialmente è questo sono le small straight non so pronunciarlo le chiamerò pezzi di binari che si fanno diversamente dalla railcraft quindi non serve la rolling machine serve semplicemente il ferro ed eccolo qui e non so perché l'ho pronunciato un po' inglese e andiamo a farne tanti ma tanti ma tanti che noto adesso non si fanno qui ma si fanno nella train workbench oh my god già mi stava ho cliccato dei tasti ho cliccato dei tasti brutti guys sono molto sorry mi ha cancellato una parte di registrazione quella in cui vi facevo vedere le rotaglie perché ho premuto dei tasti a caso e obs è impazzito io adesso lo controllerò ogni tanto allora ve li ridico velocemente questo qui è il binario della traincraft d'accordo che si fa così all'interno della train workbench questo qui è il binario largo lungo più che largo della railcraft che si fa con uno medio e che si fa così praticamente e poi più importanti abbiamo le curve che possono essere ridirezionate semplicemente da quale parte guardi del quadretto e poi abbiamo gli switch importanti molto molto importanti perché con un segnale di redstone o comunque con lo switch quello mobido mobido della railcraft che faremo successivamente ci permette di switchare e far tornare indietro il treno quindi signore e signori questi qui ve li ho spiegati meglio quando non ha registrato ma va bene andiamo a fare il trenaino il trenaino si fa all'interno dell'assembly table quindi eccola qua subito la buttiamo qui dentro e l'assembly table è questa qui ora non so che cosa diavolo dovrebbe essere questo lo ignoro ignoro anche che cosa dovrebbe essere questo non fa niente ragazzi perché il nostro primo treno dovrà essere un treno che va sia a carbone perché ci piace lo steampunk ma che non faccia cagarissimo e dobbiamo cercarlo tra ovviamente le locomotive abbiamo questo qui che è la mia aspirazione è il br01 per chi è appassionato di treni e arriva fino a 120 miglia orarie quindi very good consuma una cifra ma non possiamo permettercelo perché vuole lo still ci stanno altri trenini mobili mobili questo qui è piccolo piccolo fa abbastanza carissimo anche questo fa abbastanza carissimo questo qui va a 65 miglia orarie ma anche lui vuole lo still qual è quello che non vuole lo still è lui è il forday degli stati uniti d'america arriva fino a 70 miglia orarie non male per un ciccio ciccio fatto con materiali di base quindi signori abbiamo già questo bacche culo l'iron kimery andiamo a scrivere forday eccolo qua e mi metto a farlo in timelapse ragazzotti ce lo dovremmo avere quindi coal qui le ruote di qua perfetto vedete che ti dice pure è giusto o non è giusto l'iron fair box dovrebbe andare qui questo il boiler qua giù il ciuff ciuff qua sopra è sbagliato qui lo mettiamo perfetto abbiamo bisogno del ferro e poi spero di avere del poppy ce l'ho grazie grazie ti voglio bene oh yes signore e signori vi presento il nostro primo treno che non vedo eppur no l'iron frame e l'iron cabin grazie grazie signori il forday oh my god il nostro primo treno e vi posso assicurare che questa serie diventerà tra un passo da gigante con questi treni meravigliosi guardate che bello quindi guys andiamo a sistemare il nostro trenino e a vedere se ci bastano tutti i pezzi della rotaia ovviamente che emozione che cazzo di emozione allora il treno inizialmente sarà questo qui piccolino e farà una tratta soltanto ovvero si andrà a rifornire di coal perché il char chowal perché è quello che muove il treno a vapore ok perfetto successivamente attaccheremo a questo treno vari cargo per oggetti e liquidi per portare le materie prime da dove le facciamo alla zona di raffinamento raffinazione non lo so c'è un voto di pevore refining diciamola così quindi se faccio un'ipotesi d'accordo laggiù c'è il petrolio io estraggo il petrolio laggiù ma non faccio come l'immersive che faccio tutto lì laggiù estraggo il petrolio mando il treno il treno carica il petrolio e lo porta in un'altra struttura che costruiremo in live ogni volta l'abbellimento sarà dedicato in live per poter raffinare la cosa e poi mi torno a me quindi voi immaginate alla fine un groviglio di treni sempre riforniti di church hall che girano per la mappa io sto sbrodolando al solo pensiero e qui mi dovete dare una mano ovviamente voi perché non è che io sia così afferrazio allora mettiamo queste queste rotaie che secondo me non basteranno ma proprio assolutamente no e andiamo a fare subito subito questo perché questo è imporciance anzi togliamo questo e vediamo un po' il circoletto magico ci permette vi dicevo o forse non ve l'ho detto perché ve l'ho detto nella parte in cui si è rotto OBS ci permette di far ritornare indietro il treno e rifarlo e andare sullo stesso binario quindi qui ci dobbiamo mettere il segnalino di resto quindi il treno farà così ok poi qui ci possiamo mettere degli small e poi delle curve quindi facciamo che ne so un small small curve ecco non fate così le curve per favore se no morite facciamo curve di nuovo small small curva ti vuole togliere grazie ok small small ok questo qui è la versione proprio per pulciari schifosi sappiate che se mettessimo un treno che va molto più veloce non possiamo fare queste curve piccole deve essere una curva più grande se il treno deraglia ma per adesso dovrebbe funzionare dovrebbe stenderanno 10 di questi onestamente saranno una sessantina di blocchi più o meno noi proviamo a stenderla tutta quanta poi ovviamente l'interno lo abbelliremo ragazzi ne servono una fra no vabbè non tanti di più forse il doppio vado a farli ho finito il ferro devo andarlo a fare triste ok sono andato in miniera ho preso 22 di ferro ho fatto gli altri binari e ci siamo e ci siamo e ci siamo allora qui mi serve un pochettino più in fuori spero di aver portato di essere sì c'ho tutto bam facciamo l'uscita qui mi tengo un pochettino più largo di di là perché qui ci dovremmo fare la lo stoccaggio cioè il coal il char coal dovrà entrare all'interno del treno in maniera automatica quindi non lo possiamo fare in curva sarebbe spiacevole andiamo a mettere le curve un pochino più in là ci avviciniamo alla zona che poi ovviamente andrà rivista ragazzi quando ci avremo più ferro per farla un pochino più grande per adesso la possiamo no no devi guardare qui Marco Scarono bravo bravo vediamo un po' se perfetto perfetto perfettissimo signori l'ultima curva ragazzi abbiamo un circuito chiuso very sexy e io adesso vado a mettere il mio trenino il mio piccolo trenino iniziale ragazzi poi ci sarà una cosa incredibile oh per la guarda che belle ste rotaie ok let's go here allora il treno funziona così c'entri dentro tasto destro i metti il carburante e il liquido io mi sono scordato il liquido quindi usciamo un attimo il liquido adesso è l'acqua cioè no adesso sarà l'acqua per forza coscia coscia mi combini cosa guarda mi ha tolto lo scambio ci dobbiamo mettere per forza quel coso ok così allora no dobbiamo entrare il i e mettercelo dentro ok perfetto e qui si riempie questo serbatoio poi ci possiamo mettere il coal eccolo qua e adesso il treno inizierà a scaldarsi ci sono delle informazioni qui vedete heat level adesso è freddo ok e ragazzotti dopo che si inizia a scaldare passa da freddo a warm ok non so perché è rosso sinceramente lì la guia è strana quella sotto di me ancora warm tra l'altro questo è rifornibile in maniera automatica è uno spettacolo ci possiamo mettere troppi spoiler vi faccio siamo su hot quindi possiamo premere w e dovremo iniziare oh my god ovviamente siamo più grandi del treno purtroppo però è una figata comunque è una figata comunque e poi faremo il treno passeggeri siamo a 44 45 50 57 60 siamo quasi max speed del nostro povero trenino che non è niente di che però adesso farà il suo lavoro ok vediamo gira 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 e ritorna in careggiata ragazzi io scendo perché il treno non ve l'ho detto va da solo se noi entriamo dentro gli diamo la velocità il treno va da solo ed è uno spettacolo per gli occhi ed è uno spettacolo per gli occhi unica cosa che manca secondo me perché ancora oh mazza che corre e io c'ho il jetpack H purtroppo c'è il keybinding anche di questa qui ma bellissimo in realtà in futuro c'è un binario che quando ci passa sopra il treno ti fa il ciuff ciuff guardate che bellino quindi signori questa è l'inizio della fine perché si abbiamo le mod con i macchinari giganti tipo la magneticraft si abbiamo la flux bird che ci mette le armature e le armi con lo steam ma adesso abbiamo anche i treni belli con cui possiamo fare le cose serie possiamo fare uno smistamento che possiamo fare una gestione delle cose più realistica più bella e tutto questo poi lo rendiamo sempre più bello in live quindi tipo venite in live sistemiamo la rotaia mettiamo la gravel sotto la rotaia le fence cambiamo le leve e mettiamo i segnalini della railcraft guardate che bello è bello 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 bene vado dalla giungla perché c'è questo rumore fastidiosissimo ragazzi che spettacolo ah una cosa che non vi ho detto è che va rifornito anche di acqua altrimenti esplode male perché a una certa se c'è l'acqua inizia a scaldarsi e ci attacchiamo al cacchio quindi signori io tolgo il carburante del mio povero treno che lascio andare per l'ultima volta se ci ah se ci beccano le rotaie ci ammazza state state accorti e vi esorta a lasciare tanti pollici in su perché la prossima puntata andiamo a fare il rifornimento automatico di church hall e di acqua del nostro treno e abbia metteremo direi un carghetto dai un piccolo cargo già soltanto per potremmo far riportare la legna il coal qualsiasi cosa vogliamo mettere lì la farma di grano lo facciamo riempire di grano e ci porta il grano a noi ci facciamo una fabbrica dove un treno porta il grano ascoltate marcus cron un altro treno porta le canne da zucchero un altro treno ancora porta il latte e ci facciamo mancano le galline scusate un altro treno porta quanti cazzo porta le uova e ci facciamo una fabbrica per fare le torte perché perché è fighissimo farlo con i treni signori questa è la steam craft bella per voi eccolo sto coso vedi che strunz ciao regà parla parla